Siete patetici, proprio come allora, senza un soldo e vi fate pure una fotografia. Ma dai, Nicola, è una foto, ricordare i vecchi tempi. Ah, sì, sì, io me li ricordo i vecchi tempi, li ricordo molto bene. Di quando mio padre si è dovuto vendere la casa, per seguire i consigli di Beppe Marzia, di tuo padre. E di quando mia madre l'ho lasciato. E di quando mio padre non aveva più un soldo per darci da mangiare. Te lo ricordi, vero l'investimento, Razio? Ebbene, io non l'ho dimenticato. Sono queste che ci hanno rovinato. Il tuo investimento si cura. Carta straccia! Eh, adesso basta!